Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con il notiziario Spazio Professioni. Iniziamo parlando di professioni sanitarie perché è stato approvato al Senato lo scorso 24 maggio il DDL Lorenzin recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali di riordino delle professioni sanitarie e delle formazioni medico-specialistica di sicurezza alimentare, di benessere alimentare per la promozione della prevenzione e di corretti stili di vita. In particolare l'articolo 3 affronta il riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie e al Comma 9 si prevede la trasformazione dei collegi delle professioni sanitarie e delle rispettive federazioni in ordini professionali. Nascono così l'ordine delle professioni infermeristiche quello delle ostetriche e degli ostetrici quello delle professioni sanitarie della riabilitazione, quello dei tecnici sanitari e di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione e in quest'ultima viene compresa anche la professione di osteopata. All'articolo 12 invece nell'ambito delle professioni sanitarie viene istituita la professione del chiropratico. Il DDL inserisce inoltre tra le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie e crea infine l'elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici. In attesa del passaggio alla Camera la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha espresso in un comunicato stampa profonda soddisfazione per l'approvazione del DDL Lorenzin in Senato. Dopo anni di attesa si legge nel comunicato si è ottenuto un primo ragguardevole risultato che ci si attende trovi un rapido perfezionamento nell'iter parlamentare alla Camera dei Deputati. E poi ancora è titolo di grande soddisfazione che buona parte dell'articolato della legge approvata sia stato condiviso dalle professioni mediche ed odontoiatrica a larghissima maggioranza in diverse occasioni istituzionali. Il presidente di Conf Professioni Gaetano Stella è stato riconfermato primo vicepresidente del Consiglio Europeo delle Professioni Liberali conosciuto come Ceplis e a fianco Rudolf Kolbe rieletto all'unanimità presidente. Lo ha stabilito l'Assemblea Generale del Ceplis che si è riunita il 27 maggio a Dublino e che ha provveduto al rinnovo delle cariche per il triennio 2016-2019 del Comitato Esecutivo delle 30 Associazioni Interprofessionali e Monoprofessionali Europee. Nel corso dei lavori dell'Assemblea del Ceplis che ha visto il presidente Stella Ceman delle due sessioni di lavoro sul TTIP e sull'etica è stata anche approvata l'adesione dell'Associazione Europea Psicoterapeuti. E come abbiamo appena visto nella stessa giornata il 27 maggio scorso si è tenuta anche una sessione di lavoro del Consiglio Europeo delle Libre Professioni che ha visto al centro della discussione i temi legati al Trattato Transatlantico per il Commercio e gli investimenti. Durante il panel dedicato al TTIP introdotto dal presidente di Conf Professioni Gaetano Stella Brian Ayes, componente della Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo, ha affermato che il Trattato Transatlantico sul commercio e gli investimenti includerà un quadro legale per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Secondo Ayes l'Europa ha bisogno di questo accordo commerciale che non abbasserà gli standard europei e anzi andrà oltre l'attuale sistema di negoziazioni bilaterali tra Stati Uniti e singoli Stati Europei per il riconoscimento delle qualifiche. Si tratta, ha concluso Ayes, di un accordo che favorirà la mobilità dei professionisti tra Europa e Stati Uniti. Bonus per l'assunzione di giovani genitori anche per gli studi professionali. L'assunzione di un soggetto con età non superiore a 35 anni padre o madre di un minore consente infatti al professionista di ottenere un bonus di 5.000 euro. Lo precisa il Ministero del Lavoro nell'interpello numero 16 del 2016 pubblicato il 20 maggio scorso. Secondo il Ministero del Lavoro relativamente all'individuazione dei datori di lavoro beneficiari del bonus tenuto conto delle finalità dell'incentivo che è quella di assicurare un'occupazione stabile ai giovani genitori nonché dei vincoli dell'Unione Europea esistenti in materia di definizione di impresa è possibile aderire a una interpretazione estensiva della locuzione imprese private contenuta nel decreto di disciplina del bonus superando quindi lo stretto perimetro che la qualifica di imprenditore riveste nel nostro ordinamento. In conclusione secondo il Dicastero di Via Veneto è possibile utilizzare una nozione di imprenditore datore di lavoro in senso ampio ovvero connessa a qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato a prescindere dalla forma giuridica assunta così includendo anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari del bonus giovani genitori. E un'ultima comunicazione l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lunedì 30 maggio la circolare numero 24e che fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore dei parametri per il periodo d'imposta 2015 oltre ad indicazioni relative alla compilazione dei dati relativi all'attività svolta per i contribuenti interessati dal regime forfettario. Nella precedente circolare la 23e uscita il 26 maggio invece è riportata una guida per accedere al beneficio del super ammortamento per i nuovi beni aziendali. L'agevolazione introdotta dalla legge di stabilità 2016 prevede l'incremento del 40 per cento del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Possono soffrire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d'impresa indipendentemente dalla forma giuridica dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano e i lavoratori autonomi possono anche accedere appunto purché svolgono arti o professioni anche in forma associata. E questa era la nostra ultima notizia e vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento la prossima settimana per una nuova edizione di Spazio Professioni. Grazie. 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 Grazie a tutti.